ciao amici amici di daieale ricordatevi ad iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video lasciate un bel like ma ragazzi siamo anche sui social facebook instagram daieale e abbiamo anche il sito daieale.info ragazzi e niente oggi va dopo ieri sera che ho dato la bomba su facebook la ribadisco anche su youtube giaco rimane al cento per cento a roma e non sono stato forse l'unico a non credere fino in fondo a milic a giaco 100 per cento alla juventus sono sempre stato con il molto scettico e alla fine ho avuto ragione poi il tempo lo dirà giaco rimarrà a roma ragazzi giaco rimarrà a roma contro tutti e tutti giaco rimarrà a roma per quanto riguarda la situazione smolling ragazzi la situazione smolling è semplice si continua a trattare ma non si può chiudere finché chicche non fa le visite medico col bayern l'everkusen sapete che chicche ha il covid 19 non può fare le visite mediche finché non fa le visite mediche la roma non può dare l'affondo decisivo per chiudere per quanto riguarda altre notizie di calcio mercato color of oggi fa le visite medico e con l'inter è un'altra notizia che noi abbiamo dato cento per cento dieci giorni prima e dieci giorni no ma otto o nove giorni prima e vedete ci sarà l'ufficialità dopo le visite mediche per quanto riguarda francesco totti non abbiamo notizie siamo sinceri non abbiamo notizie e vi dico solo una cosa è una situazione un po che mi preoccupa un'altra cosa importante è che il mercato in entrata è bloccato da quello in uscita faranno di tutto per prendere smolling ma poi il resto il centrocampista si vuole fare ma deve uscire uno fra cristante e diavara e non credo alla cessione di veredù a napoli roma e napoli non hanno neanche buonissimi rapporti per quanto riguarda invece in difesa mi aspetto un giocatore giovane di prospettiva ma la roma li farà a prescindere oltre smolling anche un difensore per il resto bisogna aspettare le gestioni santon juan jesus fazio perotti tutta gente che quel poco mercato che ha e lo rifiuta perché vuole stessi soldi della roma e non lo so che vuole ragazzi questo video è breve ma lo voglio fare perché non tutti stanno sulle mie pagine ieri abbiamo dato la bomba e il missile gioco rimane a roma ragazzi mi raccomando dagli ali dagli alle tagli e ciao